Musica Le 10 è anche energia eolica con una micropala di cui ci illustrerà i dettagli Irma Arnaudo del gruppo Idrocentro. Come funziona questa pala eolica? Questa qua è una pala molto piccola rispetto a quelle che vediamo solitamente piazzate sui terreni ma nonostante è molto piccola produce energia? Sì è un generatore eolico, produce energia elettrica con una potenza di picco di 3 kilowatt e inizia già a lavorare con un vento di 4 metri al secondo quindi all'incirca 15 chilometri orari abbiamo già una produzione discreta. chiaramente le condizioni di ventosità della località in cui viene installato sono fondamentali per la produzione annua dell'energia elettrica energia elettrica che viene anche incentivata dallo Stato con un incentivo di 0,28 ogni kilowattora prodotto e quindi lavorando 24 ore al giorno si riescono ad ammortizzare i costi in brevissimo tempo. Sì perché è un sistema eolico rispetto a quello fotovoltaico anche di notte se c'è vento chiaramente è in grado di produrre energia. Alle nostre spalle indietro abbiamo invece dei pannelli fotovoltaici che si spostano quindi sono detti se ad inseguimento quindi si muovono in base al sole quindi quanto produce in più un pannello che insegue il movimento solare rispetto a uno fisso? Ecco quello che vedete è un inseguimento monoassiale che a differenza dell'inseguimento biassiale non modifica l'angolazione del pannello a livello stagionale quindi l'inclinazione rispetto all'orizzontale è fissa mentre si orienta durante la giornata seguendo il sole dal mattino fino alla sera quindi da est verso ovest l'incremento di produzione rispetto a un impianto fisso si può calcolare attorno all'ordine del 25% mentre con gli inseguimenti biassiali siamo anche a più 35% però a differenza di questa tipologia di impianto c'è un notevole costo di manutenzione mentre se potete vedere anche i dettagli il tutto è comandato solo da un attuatore lineare che lavora elettricamente quindi sfruttando l'energia prodotta e c'è appunto questa sorta di pistone che fa muovere le vele a 3 o a 5 contemporaneamente ecco per chiudere tornando sul fascino della pala eolica è vero che una pala di queste dimensioni cioè così piccola non necessita di permessi è sufficiente una semplice dia? sì a differenza delle grandi pale che conosciamo tutti sulle coste della Sardegna o dell'Italia del Sud questa pala non necessita di valutazione di impatto ambientale e necessita solo di una dia chiesta al comune di installazione bene la ringraziamo ringraziamo Irma Arnaudo per l'intervento sull'eolico a Torre San Giorgio grazie grazie a voi